Prima del terremoto aveva una casa, una scuola, un futuro. Tanti bambini come me, in Haiti e in altri paesi poveri, non li hanno mai avuti. Poi la Fondazione Francesca Rava, NPH Italia, ci ha preso per mano. Ha fatto ospedali e scuole, ci dà una famiglia, cure e istruzione, ci insegna un mestiere, così saremo noi stessi ad aiutare le nostre comunità. Con un lascito testamentario alla Fondazione Francesca Rava, doni un futuro a tanti bambini. Grazie.